Proteste dei sindacati all'ospedale di Mussomeli. Wilcisla e Norsind hanno chiesto un incontro urgente al commissario dell'ASP e risposte immediate sull'esito del reclutamento dei medici anestesisti avviato dall'ASP lo scorso 29 dicembre. Proprio le organizzazioni sindacali hanno dichiarato di non accettare la soluzione dell'elisoccorso. Dal canto suo l'ASP ha replicato che sarà garantita la copertura dalle 24 ore con due medici che si alterneranno il primo dalle 8 del mattino alle 20 e il secondo sarà reperibile dalle 20 alle 8 del mattino successivo ed ha anticipato che avverrà il prossimo imminente incontro proprio per l'ospedale di Mussomeli. In un'ulteriore nota anche la funzione pubblica CGL Caltanissetta aveva comunicato la preoccupazione sia per Mussomeli che per il Sant'Elia che con le dimissioni di quattro anestesisti secondo la funzione pubblica CGL rischierebbe di vedere ridotte le prestazioni sanitarie. Il segretario della funzione pubblica Angelo Polizzi chiede ai vertici ASP quanto si debba attendere per costruire un dialogo risolutivo rispetto ai problemi che segnalano da tempo. Poi Polizzi si rifà a un incontro avuto lo scorso 2 dicembre in prefettura alla presenza del prefetto di Caltanissetta che era armenia e dei vertici della direzione generale amministrativa e sanitaria dell'ASP durante il quale proprio il prefetto ha invitato le parti al dialogo. In quell'occasione, dice Polizzi, la sigla sindacale ha illustrato il problema degli anestesisti e le relative conseguenze in termini di possibili disservizi alla popolazione di tutto il territorio nisseno in riferimento alle strutture ospedaliere. Già nel corso del mese di dicembre, dice il direttore della UOC di anestesia e rianimazione, aveva ribadito il problema denunciando non si ha notizia delle risposte ricevute né della soluzione solo una delibera di reclutamento a tempo determinato pubblicata negli ultimi giorni dell'anno poi prosegue ancora, rivolgendosi alla politica regionale hanno riconfermato i vertici della direzione dell'ASP nonostante questi rappresentino la continuità di una gestione che è davanti agli occhi di tutti